Dentro l'uovo di Pasqua per il Pescara, solo tanta delusione. La squadra bella, propositiva e anche divertente, vista Catanzaro e con la Virtus Francavilla è stata cancellata da un Taranto che tatticamente è stato bravo ad imbrigliare i Biancazzurri. Il terzo posto ora è di nuovo in pericolo, sarà fondamentale il turno di domenica. Il Pescara giocherà allo stadio Adriatico Cornacchia alle 17.30 contro il Monopoli. Il Foggia, che segue i Biancazzurri in classifica ad un solo punto, farà visita al Catanzaro. La squadra di Vivarini ha già ampiamente dimostrato di non regalare nulla e il turno sulla carta è favorevole al Pescara. Il Picerno, a meno tre in classifica e che avrà lo scontro diretto nell'ultima di campionato, giocherà in trasferta contro una Virtus Francavilla desiderosa di punti per i play-off. Ma cosa è successo sabato al Pescara contro il Taranto? Al di là degli evidenti errori individuali, la formazione di Zeman ha sofferto l'atteggiamento tattico dell'undici di Eziolino Capuano. Una situazione già vista tante volte in stagione, sia con Colombo, sia con Zeman, vedi Messina. Il Pescara soffre molto quando gli avversari si chiudono, aggrediscono e ripartono. Al tecnico Boemo il compito di risolvere questa situazione anche in vista dei play-off. E domenica contro il Monopoli torneranno a disposizione sia il terzino Milani che il centrale Brosco, mentre verrà fermato dal giudice sportivo Crescenzi. Sempre assente il portiere Pizzari causa infortunio, mentre scalpitano Giabba e delle Monache.